La prossima settimana ci saranno tre belle novità che riguardano probabilmente il closing definitivo, che riguardano il traslogo della nuova sede, perché no, siamo addirittura d'arrivo anche con la convenzione dello stadio, visto che anche l'amministrazione comunale si è resa conto di quello che stiamo facendo, insomma, è di tutto rispetto. Quindi il closing per la prossima settimana ci dà questa novità? Non è sicuro, ma stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando... Siamo in dirittura. Diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, scaramanticamente non diciamo che è fatto, ma siamo in dirittura d'arrivo. Oggi ho avvisato il padron che molto probabilmente la prossima settimana avremo il sigillo per poter dire che siamo proprietari al 100% come Università Niccolò Cusano di questa prestigiosa società.